Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi finalmente è arrivata la più chiacchierata, la più desiderata guida, tutorial, chiamatelo come vi pare, sullo switching, sul come switchare in fase difensiva. Me l'avete chiesta in tanti, ho deciso di portarvela. Per fare questo vi porto all'analisi di una partita che ho giocato in settimana contro Tom, proprietor della Lazio, che secondo me sotto questo punto di vista ci offre tanti tanti spunti. Quindi direi di non perderci ulteriormente in chiacchiere perché sarà un video bello lungo, quindi mettetevi molto comodi. Passiamo subito sulla schermata in game. E per quanto riguarda lo switch ho bisogno di farvi delle premesse, ok? E per farvi delle premesse mi trovo già in game con la partita iniziata, come potete vedere, quando non sono in possesso di palla. E potete vedere che io qui ho selezionato MaxiMan, come potete vedere c'è l'indicatore, ma come potete vedere c'è anche un indicatore in testa a Ronaldo. Come si va a attivare questo secondo indicatore? Semplice, dalle impostazioni controller c'è icona cambio giocatore, basta mettere la spunta su sì e vi permetterà di vedere questo secondo indicatore, che per me è fondamentale soprattutto all'inizio, perché quando c'è quell'indicatore in testa vuol dire che se voi schiacciate L1 lo switch finirà sul Ronaldo, ok? In linea di massima solitamente è sempre il giocatore più vicino a quello che voi avete selezionato, a questo indicatore. Quindi quando avete uno switch da fare vicino al vostro giocatore selezionato, io vado a utilizzare l'L1. Vado a utilizzare l'analogico invece quando ho dei giocatori che si trovano o sulla linea obliqua, e quindi non sulla stessa linea del mio portatore di palla, o quando il giocatore è lontano e non ha l'indicatore in testa. Un'altra impostazione che si può attivare dal controller è quella dell'aiuto movimento giocatore, che è Nessuno, Limitato ed Elevato. Io utilizzo Limitato. Cosa significa però? Che con Nessuno, quando voi switchate, cambiate da MaxiMan a Ronaldo, MaxiMan si pianta. Con Limitato continuerà a fare un passo nella direzione in cui il vostro giocatore stava andando, con Elevato invece farà un ulteriore movimento in più. Io utilizzo Limitato in maniera tale che così quando switcho continuo a fare una lieve pressione sul portatore palla e riesco a ridurre ancora di più gli spazi. Quindi diciamo che fatta questa lieve premessa generale, di andare a vedere nello specifico determinate situazioni. Come potete vedere qui, io vado a fare queste switchate molto rapide tra MaxiMan e Ronaldo. Vedete che prima avevo Ronaldo, adesso MaxiMan, poi avrò di nuovo Ronaldo e poi avrò di nuovo MaxiMan. Queste switchate continue che vanno in queste due direzioni, perché le faccio? Le faccio per andare a cercare di ridurre questa porzione di campo. Riducendo questa porzione di campo io mi immagino questo quadrato ideale, nel quale vedete che lui non ha lo scarico facile. Né sul terzino, né sul suo centrocampista, perché io andando ad accorciare il gioco all'interno di questo quadrato, switchando rapidamente, vado appunto a ostacolare le ripartenze avversarie o le azioni avversarie. Quindi diciamo che l'obiettivo delle switchate è sempre quello di andare ad accorciare quelle che sono le... le... gli spazi. Quindi il senso è sempre quello di far sì che i reparti siano vicini, senza creare delle pericolose... delle pericolose buche che soprattutto quest'anno possono essere sfruttate con i filtranti. Quindi questa è la situazione... è la situazione ideale. Vedete che è proprio quello che succede. Guardate qui come infatti lui non vada a switchare su nessuno. Switcha poi sul terzino, che però non è in una situazione pericolosa. Qui vedete che non ho più Maxi Man e dici cavolo, e chi diamine hai selezionato? Io sullo schermo non vedo niente. Sullo schermo io qua mi sono andato a prendere il mio terzino, che voi non vedete dalla minimappa, per andare a predictare quello che è un possibile passaggio che lui fa sull'esterno. Ok? Perché tanto dico qua. Il suo Renato è marcato dal mio Maxi Man, Ronaldo marca il suo Varane, sta palla o lui continua a portarla o la deve dare sull'esterno, quindi io vado già ad accorciare l'azione. E questa è una switchata che io ho fatto lungo questa orizzontale, chiaramente con l'analogico. Quindi io da qui avevo Maxi Man, ho buttato l'analogico all'indietro e mi sono andato a selezionare il mio terzino destro. Ok? Cancelo nella fattispecie. Per andare ad accorciare, per andare a ridurre quella che è la separazione tra il mio terzino e l'eventuale ricevitore del passaggio. Lui continua a portare palla con Mendy, vedete che infatti il mio Cancelo arriva prontamente a chiudere su un'eventuale palla data sull'esterno. Una volta che vedo che il passaggio invece arriva sul Renato, vedete che ancora tenendo Cancelo, torno all'indietro per evitare che questo Neymar lo supere e si crei lo spazio per il passaggio. A questo punto vado a selezionarmi il buon Walker per andare ad accorciare, vedete, andare a mettere paura in questa porzione di campo al suo Renato Sanchez di passare la palla. Tant'è vero che lui gliela deve dare lunga perché sono andato un pelino oltre, però vedete come sono riuscito poi rapidamente a recuperare il pallone. E questa è una switchata che va fatta perché qui una volta che Walker ti ha superato, vedete che lui quando sta cambiando direzione con Ronaldo, io prendo Varane con l'L1 in questo caso perché vi ripeto che è uno switch vicino, safe, quindi schiaccio l'L1 e non l'analogico che magari mi avrebbe fatto prendere Renato Sanchez. E con Varane, tenendo poi schiacciato l'L2, vado ad avvicinarmi al suo Ronaldo e gli porto via il pallone schiacciando il tasso del contrasto. Mi raccomando, quando siete a contatto schiacciate sempre anche il tasto del contrasto, altrimenti spesso e volentieri andate a vuoto. Vedete, con le due torno indietro, boom, contrasto, rubo palla. Andiamo avanti perché vediamo le fasi difensive e non quelle offensive. Ancora una volta qua, vedete queste switchate molto molto rapide? Si viene a creare un buco, qua con Varane rimango a contatto. Qui cambio ancora una volta rapidamente tra Varane con Renato Sanchez perché l'obiettivo in questa situazione, ad esempio, vedete che con Varane sono uscito a chiudere Ronaldo. A questo punto Varane è un po' troppo distante però Ronaldo è girato di spalle. Allora io con Mendy vado a coprire un'eventuale palla qui, riprendo poi Varane nuovamente con l'analogico perché vedete che altrimenti c'era l'indicatore qua, mi prendeva Renato. Vado a chiudere e in questo caso switcho in maniera molto rapida, sempre con l'analogico, per evitare che con l'L1 da Varane il giocatore più vicino fosse questo. Quindi con l'analogico vado a switcharmi Renato Sanchez e cerco di portarlo indietro. Qui poi la palla viene data a lunga ma con Mendy sono bravissimo a recuperare questa situazione di gioco. Qui la mia azione offensiva cade nel vuoto e vedete come ancora una volta la prima cosa che dovete fare per andare a difendere è switchare sui vostri centrocampisti. In tanti mi dite come cavolo è possibile che i miei non difendono. Non difendono perché non li selezionate. Dovete cercare di buttarli indietro e con questi di andare a coprire gli spazi. Ok? Dovete cercare di prendere i difensori centrali solamente quando vedete l'uscita safe o quando proprio è l'ultima ed estrema razio. Vedete ancora una volta come con Renato copro questa zona. Switcho rapidamente in questo caso ancora una volta con l'analogico perché sono sulla stessa verticale quindi mi basta fare analogico in giù e vado a prendermi Vierà. Con Vierà vado a coprire su Renato Sanchez. Lui dà questa palla lunga che arriva su Ronaldo. Qua ancora una volta avete visto come questi due switch molto rapidi tra Mendy e Varane gli hanno fatto sì che si coprisse quella porzione di campo. Guardate qui con Varane io vado a chiudere più o meno questa linea di corsa. Con Mendy vado a chiudere quest'altra. Lui deve fare un passaggio un po' troppo arretrato. Come potete vedere Renato era lì e recupera il pallone visto che Ronaldo si era andato a nascondere esattamente dietro di lui. Qui ancora una volta è bravo lui a recuperare il pallone. Vedete che io qua non ho selezionato nessuno. Vedete che sulla schermata voi non vedete nulla perché già avevo preso un'altra volta il terzino. In maniera preventiva passando nuovamente da giocatore 1 che è Maxi Man a giocatore 2 che è il terzino destro che voi non vedete. Facendo una switchata dritto per dritto sulla linea orizzontale con l'analogico R3. Vi basta semplicemente muoverlo nella direzione dello switch. Non dovete schiacciare, non dovete fare nulla di eccezionale. E infatti vedete come con Cancelo gli anticipo il passaggio sull'esterno e recupero il pallone. Cerco poi la mia classica manovra ma non ho fortuna. Ancora una volta qui dall'attaccante che aveva perso palla avevo preso Neymar per andare a coprire questa porzione di campo e andare a impedire un eventuale passaggio. E poi switchando rapidamente con l'analogico in obliquo vado a prendere un'altra volta Mbappé per esercitare porzione in questa zona di campo. Pressione ragazzi è non uscita. Questo pure è un dettaglio importante perché switchare rapido vi permette di fare pressione. Qualora voi uscite troppo allora lì vi siete praticamente rovinati perché avete creato al 90% un buco. Vedete infatti come con Mbappé vado a fare pressione e poi vado nuovamente a switchare su Neymar per esercitare pressione in questa porzione di campo che permette di avere sia coperta un'eventuale avanzata di Klyber che un passaggio sull'esterno. Ok? Il prossimo passo sarà credo poi andare a switchare su Mendy per andare a coprire il passaggio sull'esterno se lui cerca la giocata lunga. Non ricordo la partita nel dettaglio. Ma praticamente ragazzi la precisione negli switch ad alto livello comporta praticamente il giocare una partita a scacchi. Non bisogna mai tirare troppo fuori i vostri pezzi e mai scoprire il re. Ok? Qualora voi scoprite il re, ossia i vostri difensori, prendete gol. Quindi le switchate rapide permettono di fare schermo davanti la difesa. Ok? Vedete infatti qua lui perde il tempo della giocata perché non può servire l'esterno. Io switcho nuovamente su Mbappé ancora una volta con l'analogico perché vedete che è il giocatore in obbligo quindi mi basta fliccare, io ho la precisione dello switch e vado a coprirgli anche l'avanzata sul suo blank. Ok? Vedete che lui deve ritornare. Guardate io come prendo Vieira per cercare di andare a coprire. Una volta che ho fatto pressione anche con Walker riprendo il buon Vieira. Guardate come con Cancelo sono uscito e a questo punto prendo un'altra volta Vieira. Guardate come alterno le switchate tra Vieira e Renato Sanchez per cercare di fare filtro. Renato lo porto fino al limite e prendo Walker solo quando Renato ormai è tagliato fuori dai giochi. Una volta che torna indietro riprendo Renato Sanchez per andare a fare pressione e recuperare poi effettivamente il pallone. Quindi vedete com'è fondamentale queste switchate rapide. Poi qua perdo palla purtroppo. Con Walker faccio quest'uscita stavolta un po' azzardata ma questa era una situazione di rischio. Quando vi trovate in una situazione di rischio si sta a provare la giocata aggressiva anche in difesa perché magari l'avversario non se l'aspetta e di conseguenza può andare in sofferenza sotto questo punto di vista. Qui vado ad attaccare ancora una volta azione ripetuta. E qua è sempre lo stesso pattern ragazzi. In particolare con i mediani le switchate devono essere praticamente frenetiche. Deve essere un 1-2 costante per cercare di andare a esercitare contemporaneamente pressione e contemporaneamente andare a chiudere quelli che sono tutti gli spazi che si vengono a creare. Visto che l'avversario è comunque un avversario umano e si muove in base a quelli che comunque sono gli spazi che voi lasciate. Non potete coprire tutto. Però vedete ancora una volta come corre Nato coprendo questa porzione di campo faccio rallentare il mio avversario. Lui poi trova questo corridoio ma io non esco con Walker. Switcho immediatamente un'altra volta con l'analogico perché vedete che il giocatore è più o meno in obliquo. Mi vado a riprendere il buon Viera e la cosa che devo fare è andare ad aggredire e a cercare di ricoprire la distanza che si è creata buttando indietro Viera. È fondamentale switchare tanto sui centrocampisti ragazzi perché altrimenti non riuscirete mai 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 a fare il filtro che volete. Guardate io qua corrogo Viera fino all'impossibile adesso che sono in questa situazione vedete come di nuovo prendo Renato e poi prendo Viera perché adesso il mio obiettivo è quello di avere i due centrocampisti sulla stessa linea o comunque che sono vicini in maniera tale che con questi io posso andare a dare fastidio. Perché qualora io tirassi fuori uno dei miei due difensori centrali aprirei dei barchi pericolosissimi. Quindi in questo caso si vanno a fare tante switchate rapide sempre con l'analogico perché sono sulla stessa verticale in maniera tale da non sbagliare perché qua se schiacci il L1 per prendere Renato in realtà vedete che vi prende Cancelo perché c'è il secondo indicatore in testa per andare appunto a coprire gli spazi. Vedete come aspettate che vi ho lasciato il puntino tipo indiano vedete come con Viera vado ad aggredire Renato Sanchez lo porto lì e vedete come vado a prendere poi il mio Renato una volta che Viera non può più fare nulla per andare ad aggredire l'altro portatore di palla. Renato è a contatto capisco che magari sta arrivando un passaggio in questa zona allora il mio obiettivo è passare da Renato su Viera per tirarlo immediatamente a coprire su Ronaldo. E' tutta una questione di lettura ragazzi dell'azione che però più fate più viene in maniera meccanica su questo ve lo posso garantire vedete che infatti arriva il passaggio su Viera lui mi ha saltato in questo caso il centrocampo e allora vado a prendere effettivamente il difensore vedete che col difensore vado a coprire lui la palla la scarica ancora una volta non switcho Walker perché quasi avessi switchato Walker non avrei lasciato il difensore in copertura ma è giusto che continuo a tenere Varane perché so che tirandolo indietro mi intercetta il passaggio. E di fatti è quello che è effettivamente accaduto qui poi lui è fortunato nel rimpallo non vado in panico continuo a tenere Varane e gli tolgo il pallone nuovamente cerco la mia classica poi trama offensiva lui mi recupera il pallone vedete come su Maxi Man la prima cosa che faccio è un'altra volta vedete che il primo switch è sempre sull'esterno per andare a ridurre quello che è lo spazio tra il suo portatore e la mia e la mia linea di centrocampo vedete come arrivo come con Cancelo sparato e una volta che Cancelo l'ho portato in questa zona avete visto che quando l'ho switchato grazie al limitato ha fatto un'altra volta un piccolo passettino vado a prendere Vierà per coprire poi questa porzione da Vierà poi vado effettivamente a passare un'altra volta su Renato Sanchez perché Vierà ormai copre questa linea questo è coperto allora il mio obiettivo diventa andare ad accorciare obiettivo numero 2 andrà ad accorciare su Blank per andare a chiudere un eventuale passaggio vado a coprire con Renato su Vierà vedete come con Vierà io torno all'indietro perché non posso uscire con Cancelo se io adesso switchassi su Cancelo e uscissi sul suo terzino lascerei il suo esterno libero il suo Renato libero di avanzare si verrebbe a creare un'azione di inferiorità numerica da parte mia il mio avversario potrebbe tranquillamente trovare lo spazio per l'imbucata vedete invece tornando con Vierà come ho coperto la giocata centrale una volta che si trovano sulla stessa obliqua vado a selezionarmelo con l'analogico per andare a coprire questo piccolo triangolo dove c'è un eventuale passaggio o un'eventuale avanzata di Neymar lui effettivamente aspetta l'avanzata di Neymar ormai Neymar è coperto da Cancelo e riprendo Vierà sempre con l'analogico in questo caso per andare a coprire quest'altra porzione centrale quindi bene o male ragazzi non ci stiamo raccontando nulla di nuovo il pattern è sempre quello come potete vedere alla fine ho tirato dietro anche il buon Renato Sanchez per recuperare il pallone senza che vi sto ad annoiare a dimostrarvi per 90 minuti quello che va fatto perché poi vi ripeto insomma le giocate sono sempre quelle a fine partita vi voglio solamente far vedere che grazie a questa difesa molto puntuale fatta veramente al centimetro questa è una partita che è terminata 0 a 0 come è strano vedere su FIFA bene che a alti livelli magari capita però soprattutto ad alti livelli un gol bene o male si fa ci vuole veramente una prestazione impeccabile per terminare 0 a 0 e voglio farvi vedere che dalle statistiche questa è una partita che è terminata con il mio avversario addirittura a 0 tiri certo io non ho fatto uno quindi è stato bravo anche lui però il pattern che insomma io volevo il pattern che io volevo spiegarvi è questo qua spero che abbiate capito quindi cercate di assimilare quelli che sono i movimenti cercate di capire che l'obiettivo è sempre quello di ridurre gli spazi sempre quello di compattare i reparti sempre quello di non far aprire la vostra squadra di ridurre le distanze rinculando con i centrocampisti di switchare i giocatori solamente con l'L1 quando sono vicini e vede l'indicatore in testa e non c'è ambiguità altrimenti quando i giocatori sono lontani sulla stessa orizzontale o sulla stessa obliqua andare a utilizzare l'analogico quindi R3 e raga spero che questo video sia stato abbastanza chiaro ci ho messo veramente tanto tempo prima di portarvelo spero di essere stato completo in quello che vi ho detto fatemi sapere con un like e con un commento se questo video vi è piaciuto vi ricordo tutte le info per le live giornaliere in descrizione e a me non resta altro che salutarvi ragazzoni ciao ciao ciao